Bentornati a tutti sono sempre Sambro Gilgamesh e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee Vi dirò Ho fatto un po' di ricerche Prima di partire Col prossimo video e cioè con questo E sono rimasto un po' così Cioè non per forza Ha fatto il video, avete sentito il diverso di Eevee Tuttavia sono rimasto un po' così Perché Perché ho scoperto che non c'è la bicicletta Perché appunto esistono i Pokémon cavalcabili eccetera E quindi hanno tolto completamente la meccanica della bici D'altro canto ho scoperto No, oddio, non so a cosa serve Scusate, la Pokéball mi perdo ogni tanto Ho scoperto che appunto l'autografo non serve Né per la bicicletta né per il Pokémon fan club Ma servirà altro, a quanto pare Non so per cosa Mentre invece il presidente del Pokémon fan club Sarà una rottura di palle Gloom Sarà un po' una rottura di palle Perché appunto dovrò Aumentare l'amicizia con Eevee Proprio perché Io cado vittima di queste cose Perché Ad avere un'amicizia perfetta con Eevee Ti dà dei vestiti Ti dà dei vestiti che Ho letto in Pokémon In Pikachu ti danno solo il vestito Raichu In Eevee ti danno tutti i vestiti Per tutte le evoluzioni di Eevee E io cado vittima di queste cose purtroppo Quindi dovrò Veramente darmi da fare Per aumentare l'amicizia di Eevee E questa cosa è una disdetta Cioè non mi piace perdere troppo tempo A fare cose Sceme Però io Con la personalizzazione Cado in trappola Borsa Boxpot No perché Boxpot Sono troppo abituato Sono troppo abituato Dov'è? Torna indietro No fermo 7,7,7 Ok Allora fai così Sposta Sposta Ok D'altro appunto dicevo La nostra squadra Per un po' di tempo Sarà questa Non ancora per tanto In realtà Non ancora per tanto Dica Una volta qui c'era l'MT Con teletrasporto Voglio vedere cosa c'è adesso Perché sì Hanno fatto un'MT Con teletrasporto Una volta Vabbè C'era Turbine Infatti che esisteva Ventagliente Ventagliente Se la sono dimenticata In un buco nero Per anni Ascoltami Onyx Lascia perdere Ah Eri veloce Ma adesso no eh Adesso non te la cavi più Tanto facilmente Ah ed era pure un Era un brutto colpo Ma Mi sa che la cosa Non funziona Come funziona Questa cosa adesso Ah Cioè tecnicamente Poteva funzionare In realtà Siete tutti e due Sotto terra Vi beccate uno Con l'altro Cioè non è che Sia così impensabile Però no La logica del gameplay Ha effetto Ha priorità Sulla logica reale Ok Cosa c'è qui adesso Super pozione Noi ridiamo e scherziamo Ma DMT Io non ne ho trovate tante Cioè mi hanno regalato Giorno paga Ok Ma a parte quello Le altre DMT che ho Le ho ottenute Dal team Dalla Recruita Rocket E dal E dai Capipalestra So che DMT Dovrebbero essercene Anche tra l'altro FIARO Due i tuoi pokemon Di tipo Quelli otto Eh stavolta Sono preparato Quando serviva Non avevo né mosse Di fuoco Né volanti Adesso quelle di fuoco Le ho Cioè lui sarà Il mio caro armato Contro il pokemon Con le otteri Ed erba Praticamente Ecco È così che deve andare Ok Non catturerò Magari Magari fosse un MT Tanto per cambiare Alen Alen Montanaro È stato un allenatore È stato un allenatore specifico In pokemon sole Che mi ha dato un fastidio bestia Con le dito roccia Aia Perché non mi ricordo Ormai se Se autodistruzione Si basa sugli HP massimi Non mi ricordo Perché esistono Forse non mi ricordo Forse non dovrei Forse non dovrei Scusate Scusate Indovina chi non ha difesa Contro buio Vabbè Tanto primo turno Lo attacco Crepa Quindi Ok Sì Lasciamo perdere Mandorafpade Visto che ci sono Lascia fare Sono sicuro Che vincerai tu Sei sicuro Chissà se c'è ancora Un oggetto nascosto Dove mi ricordo E tra l'altro so Perché ho fatto ricerche Non molto tempo fa So che non lontano Da qui Si può trovare Dratini Ma non credo Penso che si trovi Soltanto nell'acqua Ah così No Scusate Adesso uso due mani Perché Non so se fosse Una sfera O se fosse No era nascosta Per terra Ok È bello Che sto portando In giro Nido King Quando Nido King È l'unico Che ancora non uso Venghi Tanto questo Non mi ricordo È il percorso 10 Mi pare Può essere Ehm Nerd' devo mandare Raticate no io volevo è troppo un casino questa cosa che devi fare a destra o a sinistra in realtà per fare la borsa ma che continuo a sbagliare io voglio mandare Raticate non voglio fare altro mi dà un fastidio questa cosa che non posso dargli un soprannome è meglio meglio in realtà averlo mandato altrimenti faceva una brutta fine Charmille Raticate si può fare 90 80 o gli faccio Bracere beh credo che Bracere sapete che togliamoci un dubbio tolgomi un dubbio più che altro Pokémon eh che belle cose che belle cose comunque grazie gameplay cioè grazie anche Game Freak che mi fai il controller opzionale ma con un pulsante in meno quindi certe funzioni sono preclusa mi fa piacere grazie vuoi grazie eh non premeva su ah alla faccia basta che ora non faccio tipo Iperzan ah Y è un po' una minchiata perché almeno vedete che non mi ricordo se siano intercambiabili i controller a fine video o controllo ok chissà chi ha avrà tipo un Pokémon probabilmente ah ne ha due cos'è? cominciano gli allenatori seri che hanno due o tre Pokémon a testa sarebbe quasi una sorpresa certo d'altro canto sarei costretto pian piano a tagliare o fare video più corti sui combattimenti perché se poi devo perdere mezz'ora soltanto a combattere allenatori ecco il problema è che lui spero non abbia magnitudo non so se è magnitudo ma di sicuro non ha abbastanza HP fiero eh tuono roccia ghiaccio purtroppo al momento non ho nessuno dei tre ma è il fulmine eh ma però dai 27 contro 20 si può fare che livello si improveva ma è livello 20 credo spiero basta è un rischio no perché comunque anche fosse veloce non è abbastanza ok benissimo vi dirò che nel tunnel roccioso fin dove riesco evito gli allenatori cos'è ah un idola un femmino fin dove riesco evito gli allenatori nel tunnel roccioso forse dovrei anche qui in effetti si dai facciamo un gameplay un po' vario cioè nel senso ecco per esempio no eh cioè perché fare questa cosa mi chiedo io se non c'è niente per terra però anche sta cosa che non puoi usare la bicicletta vuol dire che finché non hai un pokemon cavalcabile trollato ciao ciao come diceva Bitta chi la fa la fa eh ma porca miseria che imbecille me lo merito me lo merito git good proprio per questioni varie purtroppo ancora nido king è un po' fuori portato da usare non lo sarà ancora per tanto basta non sei tu cannon smettila grazie quanto sei noioso io continuo a sorprendermi di quanto sia un carro armato Raticay cioè non lo neanche non so neanche quanti V abbia 18 andrà Raticay non so neanche se ha cioè uno non so neanche quanti V abbiano due non so neanche dove controllarli al momento quindi ha dei buoni V ma ok ok scusate non intendo bisogna andarsi un attimo sistemata oh ma guarda un po' cosa si diceva adesso ci dovrebbe essere un centro pokemon oltre a quello ci dovrebbe essere anche un oggetto nascosto se funziona come una volta e io so che qui si trova dratini nell'acqua è raro ma si trova crebbi ma guarda un po' prendiamolo perché no calma ah alla faccia gli allenatori da battere sapete sapete che vabbè questa cosa pokemon il lancio tecnico io non capisco cosa sia però visto che l'eccellente forse dipende anche dall'angolazione del tiro da come la pokeball è angolata quando colpisce il pokemon forse oltre che il tempismo adesso mi dà a volte staccano tanto l'auto mi fischio immediatamente però attenzione nidorina cioè nidoran femmina ce l'ho non credo tu prendila madonna quanto l'ho lanciato vediamo una cosa sono curioso sono curioso può essere che il lancio tecnico sia la distanza l'hai tirato anche a una distanza più o meno buona c'è un beleno sì chiaro allora rattata per piacere lasciami in pace fammi raccogliere figurati se erano mt figurati io voglio sapere tutte le mt del gioco dove minchia si trovano perché oh cominciano le cose belle cos'è qui per trattini chi arriva ora a togliermi dai guai chiama il volo i power rangers voi e quale esercito no aspetta non può essere ah ok scherzavo mi sono flashato cose ma no non poteva essere lei ha i capelli rossi quell'altra aveva i capelli tipo biondi o comunque arancionini Cassidy per chi ricorda Cassidy sì buona fortuna poi vi fece un attacco bora vi congelò tutti quanti ah mi ricordava mi stavo canticchiando la canzoncina perché mi ricordava qualcosa infatti un brano di DCDNT che tra l'altro appunto ho fatto un video recente anche dunque indovina ma vuoi premere grazie ne ha uno solo dai non mi sforzo neanche a fare fossa cioè figurati ciao è così che è bello che siamo contestualizzati nella trama è un minimo comunque a parte che il caro Satoshi li incontrava durante il suo viaggio ma solo che la lega di Satoshi non era esattamente questa cioè la lega pokemon intendo non c'erano esattamente i super 4 a presto ok scusate ma devo niente avevo l'anellino della pokeball ma alla fine è da troppo fastidio ah ok niente ha risolto il problema mettendolo direttamente per terra forse o forse no scusate perché fondamentalmente una volta c'era uno di questi cespuglietti che ho tagliato che dava praticamente bloccava era praticamente all'inne come ve lo spiego fate finta che il centro pokemon sia più in là di una casella casella tra virgolette ok cioè al pari di questa parete qui e qui c'era però un cespuglio appunto che si poteva tagliare e che ti permetteva di andare a destra davanti all'entrata solo che se tu tagliavi questo cespuglietto qui e poi davi contro la parete c'era un oggetto nascosto come se fosse una super pozione credo ah un corci guarda dov'è che infami come siamo eh oddio io vorrei verrà un po' lunghetto sto video eh perché gli via hanno i versi bellivi speciale io voglio andare di prepotenza cioè via spero che non mandi un pokemon d'acciaio o di roccia adesso perché se no o fantasma no vai vai dagli come se non ci fossero domani spero che non faccia confusione ma anche se fa confusione chi se ne frega non credo proprio sarebbe un problema ciao eh è già finita la pacchia beh che tra non molto tempo arriva il quarto pokemon della squadra allora squadra ah devo rimuovere loro due 28 28 28 ok 92 allora niente devo spostarlo in là che tra l'altro fosse per uno solo chi se ne frega il problema è che io me li sposto in ordine nel caso debba combattere anche proprio con due i primi due pokemon perché non si sa mai che faccio una battaglia due contro due che arriva quando un minuto lo aspetti eh in effetti mi ricordo che si siete abbastanza di qua esatto eh si servono quelle gli spettri mi ricordo che gengar se lo usi col mio stile gengar è veramente utile sempre che tu riesca a procurartene uno ovviamente cioè ha buoni parametri attacco basso credo ma chi se ne frega tanto è meglio con gli attacchi speciali ha una buona velocità una buona potenza speciale buoni hp eccetera anche difese mi pare credo non sono sicuro ma è par di sì è un buon pokemon non mi ricordo che pokemon avevo in pokemon seta omicron no allora questa cosa di usare le tecniche segrete però da almeno non serve a niente a meno che non salvi qua dentro forse allora quando carichi la partita non puoi non ti chiede se vuoi usare cosa e questa specie di ah ho capito cos'è è una una cascatina ecco che lui c'era lui dimmelo ricordavo vabbè oh ma guarda chi c'è continuano a ricordarmi era davvero può essere che fosse o grave grave o magari va grave oppure hunter o era machok non mi ricordo ce n'era uno che si evolveva per scambio e veniva scambiato per cubon in pokemon giallo ah devo ancora toglierli tra l'altro però vabbè insomma è un casino è un casino muoversi con joy con controller sulla pokeball allora c'è più che altro tenerlo in modo a premere bene A e anche da direzionarsi box allora rimuovi esiste esiste anche il git good per carità eh però ok mi è spawnato davanti eh no grazie sto bene così in realtà sto davvero bene così cioè non è che abbia una squadra così debole in confronto agli allenatori che trovo adesso mi trovo l'allenatore qua che mi spacca in due e mi rimangio quello che ho detto e adesso sono un po' preoccupato perché se questo è il livello medio degli allenatori cioè io penso alla lega la lega aveva un pokemon a livello 50 nel primo gioco cioè soltanto i primi pokemon della lega erano oltre il 50 mi ricordo che in rosso e blu lo starter del rivale era a livello 69 in pokemon giallo lo starter del rivale era comunque a 65 eh forse non è il caso eh pokemon acqua psico eh mi dispiace Raticate devi andare tu non credo che basterà questo a salvarti in realtà forse si sarebbe salvato lo stesso io avrei fatto morse ma adesso no cioè adesso gli faccio sgranocchio per forza non mi fido che allenatore è lui comunque poche fanatico no è stato in pokemon sole che ho trovato un cerca pokemon ho detto si vecchi poche fanatici cioè ci sono golbats selvatici porca miseria che grossi fermo lì ma qua c'è la scala mi ricordo un po' le mappe a parte che si vedono è quello che greveller porca miseria io ora sto facendo un po' rush della zona ok allenatore vabbè perché non voglio perdere troppo tempo contro pokemon allenatori che posso evitare eccetera vorrei arrivare alla lavandonia poi però mi off screen mi farò comunque un giro della caverna per vedere se ci sono delle sfere che ho tralasciato o battere anche gli altri allenatori oh ma guarda chi c'è ti dirò come te la cavi attacca per primo e fa tentennare però forse non può usarlo a ripetizione perché non funzionerebbe mi pare è grosso e resistente però in realtà in questo momento mi viene in mente il caro basta il caro miltank di chiara miltank che in più usava come si chiamava quella mossa non usava ripresa usava latte moon cosa usava aveva una mossa che lo curava cioè oltre ad essere un gran rompiballe si curava pure borsa visto che adesso super pozioni ne ho usiamole lascia fare porca miseria quanto cura allora raihorn serio? io l'avrei voluto usare se non fosse per il fastidio che a parte che ha una delle due difese che è bassissima mi pare o comunque abbastanza bassa e mi dà comunque fastidio il fatto che non possa diventare raiperior mi ha peccato eh vabbè peccato ho tirato male questa cosa è bellissima cioè io continuerò a dirlo che è bellissimo perché mi piace troppo sta cosa che esce il suono il verso del pokemon da qua molto semplice una cosa alla volta quando parta la carica si fa solo se si addormenta porca miseria qua si è chiuso ma qui c'è una sfera la vedo anche senza flash lascia fare calma allora io devo andare via ti ho fregato eh ti punta le ultime parole famose come al solito ti puntato ho puntato ho fregato ma ti dirò lascia stare tanto ho già Geodude allora mi ricordo che lì c'è un allenatore però volendo uno può fare il giro qua dietro vero però nei giochi originali si muovevano gli allenatori o rimanevano fissi perché mi ricordo che una cosa forse che non si riusciva bene a vedere al buio era se si muovevano o no matchup è bello riconoscerli anche al buio su vedete che è andato leggermente a destra la pokeball e non mi ha dato tipo ottimi se gliela tiro dritta sono quasi sicuro che mi darà ottimo perché vedete sta a parte che ha fatto eccellente ma complimenti è più eccellente eccetera ma non gliene è fregato niente fermo no zero finchè due turni ho tre scala grazie no non era quello ma allora qua sono costretto mi sa ad affrontare un allenatore vero no non sono costretto ciao come diceva Spiro no grazie ci vediamo sto solo controllando se ci sono spare poke in giro per per i tesori per tipo tesori no si cosa ha trovato ah sono soldi lascia fa fune di fuga nel caso tu sia disperato no girti giù ti odio ti odio vabbè eh vabbè ogni tanto una va cioè ogni tanto una bisogna per forza farla come siamo tanto sulla testa Eevee cioè l'avevo già visto però si inizi la battaglia e ce l'hai sulla testa se avessi un certo volatile ti farei etere la ma purtroppo non è lascia fare certo poi andrà in disuso Ira di Drago a un certo punto però intanto visto che comunque b-shotto b-shotare per b-shotare usiamo ho un'idea facciamo anche le cose performanti ogni tanto giusto per farle invece di fare le cose schematiche per forza facciamo le cose che divertono che sono belle da fare perché sì perché funzionano tipo ora lo stab cioè gli faccio 240 di potenza io adesso eh mi arrendo eh c'è credo ok andiamo qui c'è il percorso maledetto mi è spawnato così davanti sì dicevo non c'è ancora così sì ma sarà difficile da prendere eh infatti borsa sapete che non mi ah ho una premier ball davvero no aspetta no aspetta borsa megaball ah usiamole per lui ah proprio ti cambia anche ti cambia proprio l'anello cambiando la ball perché effettivamente diventa più facile prenderlo eh però attenzione complimenti fermo lì ti odio stai fermo leh almeno ha funzionato la direzione della bolle ok dai ce la deve fare oh evvivo spero si sia sentito un nuovo tiro eccellente lancio tecnico lascia fare quindi usiamo nido king adesso non è che imparano no zero ok i dati di kangaskan sono stati inseriti uscio dentro ma subito quasi non è quasi la lotta pur di proteggere ok fermo lì squadra sposta qua mi lasci un po' in pace però questa cosa qui cioè lascia parla lascia parla perché ci mette tre ore però madonna mia scusate ma quest'area è sempre fatta apposta per metterci un tesoro allora se io vado di lì devo combattere un allenatore però c'è scusate ma questo cos'è ah che scemo ok devo andare a sinistra per proseguire di lì ci tornerò sì sì vabbè questa devo combatterla per favore chi è chi è chi è fanta allenatrice cos'è oh questi sono dei begli allenatori che hanno i pokemon che durano poco eh mi dispiace che te devo dire da parte il fatto che ho 4 livelli più di te e sono un Nido King mentre tu sei un Vulpix che te devo dire BAM lascia a fare Cadabra forse sarebbe meglio cambiare o prevedo che il mio Nido King farà una bruttissima fine va bene essere ordinati e schematici ma a volte sei costretto a fare le cose bene cioè non puoi dire no vado ad affrontare la palestra di Surge con Poliwag o Poliweer no infatti qual era il problema da Misty? il problema è che uno dei Pokémon diceva no non posso e ci ho provato comunque un pochino ha funzionato contro Psyduck ok ma arriva Starmy e Starmy dice o hai un Pokémon decente o ne hai uno che vada bene ma allora faccio devo andare qui a sinistra per proseguire sono abbastanza sicuro mi chiedo cosa ci sia sotto allora ah c'era un Kyuubon a caso certo che minchia spuntano come niente i Pokémon selvatici qua alla faccia del profumino controllavo ci fosse qualcosa questa è la zona bastarda di cui ho parlato in quel video quando ho detto che abbiamo fatto test ai tempi di Pokémon rosso e blu con il caro Vinasaur contro Bellsprout scusate ma sto concentrato andate per schivare i Pokémon Machop eh prendiamolo qui appunto col Bellsprout che aveva Volgibotta infinito e continuava ad attaccare lui quindi non è finita più e alla lunga ho perso abbiamo perso non mi ricordo il Pokéball vabbè in tutto però penso contro il Pokéball sono abbastanza sicuro che allora sì eccellente dipende dalla direzione del tiro il tiro tecnico invece penso che dipenda dalla distanza ed effettivamente sì è molto ben calibrato mi pare il tiro con la Pokéball con i Joy-Con invece è un po' meno eh vabbè ma vuoi sta fermo un attimo è che eh infatti adesso non mi ha dato neanche buono quanto è tosto però quindi è un Machop non è Censi appunto quando ho detto che ci ho messo quattro Pokéball per catturare un Miao era per cose come questa cioè il Miao se non sbaglio aveva anche l'anello giallo in realtà non credo mi pare grazie meno male che devo fare è il tiro tecnico ok andiamo fuori da qui piccolo molto potente la sua maestriente dell'altra maestriale lo rende un osso duro ah si può spostare il modello 3D finché prego eh figurati no no però siamo vicini all'uscita se mi ricordo bene non mi ricordo precisamente com'è l'uscita ma mi ricordo che dovremmo esserci più o meno ma andiamo di colpo ti odio stai solo rimandando l'inevitabile dicevo ok no voglio usare un po' Nido King nel caso ci fossero dubbi perché volevo fargli imparare colpo eh squadra allora sposta qua sposta qua ok potrebbe essere qui l'uscita cioè grazie per non esserci neanche un prompt che faccia capire forse se accendi tutto quanto vedi che lì c'è illuminato che ti dice che puoi andare fuori non lo so non lo so non lo so non lo so Grazie a tutti. Poi non rende lo stesso l'idea da fuori, da torre, di quanto è grande dentro. Scusate, mi ha messo malissimo a fuoco. Mi ha messo a fuoco malissimo. Vabbè, ma cos'è risentire sta musica, cioè... Siamo già a 46, quindi direi che mi fermo qui. Sto pensando a cosa fare... Sapete cosa faccio in realtà? Sto pensando, allora, offscreen di andare a fare gli allenatori nel tunnel roccioso. E ok. La torre Pokémon la lascio per dopo. Ma che carico. Sì. Perché? Perché? Non la capirò mai sta cosa. Non la capirò mai. Perché gli dice no. Perché ti dice no? Cioè, perché ti dice male? Così. E quindi dicevo, offscreen farò il tunnel roccioso, la bandogna non c'è molto da fare per ora. Magari vado giù e faccio gli allenatori che ci sono sotto la bandogna, giusto per togliermeli di mezzo per ora. Ma anche lì. A parte quello, poi non si va troppo avanti per motivi ben noti a chi sa. Il percorso di là, cioè di là, dalla vostra... Scusate. Ok. Faccio ancora fatica a... Il percorso di là, invece, dalla vostra prospettiva... Potrei anche effettivamente andare a far fuori gli allenatori... Far fuori, proprio. Non è a sconfiggere, a far fuori gli allenatori. Però, invece, durante il video proseguiremo di lì e prenderemo i tesori. Tesori. Oggetti per terra. Ora, se ci sarà qualcosa di interessante che catturo mentre faccio robe varie, lo dico quando comincerò il prossimo video. E nel caso comunque li rincontriamo, lo rivedremo. In modo che non perdo troppo tempo ad affrontare allenatori. E invece il video lo dedico un po' più all'esplorazione, ai dialoghi, ai tesori per terra, a cose un po' più peculiari. Che semplicemente continuare a trovare allenatori che hanno sempre gli stessi Pokémon da sconfiggere. Detto questo, io spero che il video vi sia interessato e piaciuto. A me è piaciuto il tunnel roccioloso, devo dire... Poi questa musica qua. Cioè, chi se lo ricorda di voi? È bellissima, è bellissima così, è perfetta. Perfetta non lo so, ma è bellissima. Ci sta, ci sta assolutamente. Cioè, solo per questo vale di essere arrivati fin qua. Solo per la musica. Assolutamente. Io vi invito, come sempre, a seguirmi sui social, se volete. Sono su Facebook e Telegram, a nome Sambro Gilgamesh. Sono anche su Ko-fi a Sambro underscore Gilgamesh, per chi volesse fare delle piccole donazioni. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate del video, se avete qualche consiglio, qualche domanda. Curiosità anche. Appunto, io sono più o meno in Blind Run, cioè conosco Pokémon giallo, rosso e blu. Ma Let's Go no! E Let's Go si è dimostrato un po' diverso finora. Quindi se avete delle cose da dirmi, hai lasciato indietro quella cosa là, falla adesso che è meglio. Accetto consigli. Se no, lo scoprirò io quando sarà. Però accetto volentieri consigli e opinioni, eccetera. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!